Buon sabato a tutti e anche questa settimana il comune a casa tua continua il lavoro incessante dei nostri uffici nonostante l'estate, quindi un periodo di ferie con ovviamente i momenti di meritato riposo, è un periodo di grande attività nonostante l'estate, di preparazione di bandi, progetti ai quali il nostro comune continua a partecipare. È uscito recentemente un ulteriore bando del Ministero sul quale stiamo lavorando, Ministero della Cultura sul quale stiamo lavorando per un progetto sulla biblioteca, è uscito un nuovo bando regionale legato alla rimozione dell'amianto dalle strutture pubbliche al quale per poche ancora parti che ci riguardano come amministrazione pubblica parteciperemo, stiamo predisponendo gli atti, stiamo e continuiamo ad attendere gli esiti di altri bandi come quello della rigenerazione urbana, sono arrivati e purtroppo in questo caso non con un esito favorevole nel nostro caso quello del sport a scuola, un bando PNRR scuole, un bando al quale abbiamo candidato la ristrutturazione della palestra delle scuole medie e dell'area piscina, quindi l'area sportiva al chiuso della palazzina delle scuole medie e che purtroppo ci ha visti non finanziati anche seppur ammessi e inseriti in graduatoria, sono stati finanziati pochissimi progetti in realtà di questo bando, la gran parte così come previsto dalle normative nazionali, la gran parte di queste risorse sono finite, destinate al sud e quindi ha visto in Piemonte finanziate addirittura pochissime scuole da questo punto di vista, quindi pochissime strutture, se non ricordo male solo 4 in tutto il Piemonte, capite che era molto difficile e molto complicato poter ottenere queste risorse, resta comunque una progettazione nei nostri cassetti, progettazione che intendiamo portare avanti ovviamente nella nostra programmazione negli anni futuri e quindi cercheremo comunque altre risorse col quale realizzare appunto queste tipologie di interventi. Tipologie di interventi che invece quelle che riguardano la nostra attività come i lavori alla sede del Como, così come quelli alla caserma o così come anche quelli al cimitero proseguono e tra poco nell'approfondimento l'assessore dei lavori pubblici Roberto Gualino vi darà delle lucidazioni ulteriori rispetto appunto alle attività del nostro Comune. È un momento difficile, in questi giorni stiamo vivendo una nuova crisi di governo, in questo mandato, in questi 5 anni dalle elezioni del 2018 è la terza volta che cade un governo, eravamo in dirittura d'arrivo di nuovo per un appuntamento presso i ministeri per provare a sciogliere la questione legata ai famosi fondi Scanzano, quei 17 milioni e rotti mila Euro che sono nelle casse del nostro Comune e non possiamo spendere in una situazione se vogliamo paradossale ma che denota appunto quello che sono la politica italiana di questi anni. Affronteremo un'estate rovente sotto tutti i punti di vista senza avere un governo al di là di come la si pensi, ci auguriamo a questo punto che si arrivi al voto rapidamente, di avere un nuovo esecutivo molto rapidamente e riprenderemo nuovamente da capo le interlocuzioni con chi ci sarà sperando appunto di arrivare a una soluzione definitiva. Con l'assessore e vice sindaco Elisabetta Borgia avevamo lavorato a un nuovo documento di transazione che permettesse appunto di risolvere la questione e di far risparmiare soldi allo Stato e quindi ai cittadini lo terremo nel cassetto e ci auguriamo appunto dopo l'estate di poterlo ripresentare nuovamente a Roma nella speranza questa volta di avere un interlocutore più presente anche da questo punto di vista. Questa edizione del Comune a casa tua è l'ultima prima anche delle mie ferie, dalla prossima settimana mi godrò qualche giorno di riposo con la mia famiglia, rientrerò dopo il 7 di agosto, in quei giorni comunque gli uffici ovviamente tutto il resto della mia squadra sarà a disposizione di tutti quanti pronti per ripartire con il mese di agosto e ovviamente con la nostra festa patronale. Siamo arrivati alla definizione anche degli ultimissimi piccoli dettagli del programma che vi verrà presentato proprio nelle prime settimane di agosto, grandi ospiti come di consueto nella nostra sagra, tantissime le associazioni che parteciperanno, tantissimi eventi oltre che in piazza Comazzi anche in centro, in piazza Udisio, la fiera, le giostre e tutto quello che ne consegue, gli eventi culturali, una bellissima mostra a Palazzo Paleologo. Quindi qualche anticipazione ve l'ho già data, vi invito poi a vedere i video, il programma e tutte le altre iniziative che metteremo in campo per appunto regalare una festa patronale di ritorno vero alla normalità per la prima volta dal 2019, tanti giorni di grande divertimento. Questa settimana, quella entrante sarà anche quella che concluderà le attività di tutti i centri estivi, si è già concluso quello del oratorio salesiano, si concluderanno anche gli altri centri estivi, ringrazio ovviamente tutte le famiglie, ringrazio tutte le persone, tutti gli operatori, tutti i volontari, gli stagisti, gli educatori e le associazioni che hanno permesso durante anche quest'estate ai tantissimi nostri bambini, siamo arrivati circa complessivamente a 350-400 bambini accolti nei nostri centri estivi di passare una bellissima estate imparando, stando insieme agli altri che era la cosa per noi fondamentale. Quindi chiudo salutandovi e lasciando, augurando a chi le deve ancora fare buone ferie, a chi le ha già fatte con un po' di invidia da parte di chi appunto è ancora qua e sta abbramando di poterlo fare, augurandovi un buon proseguo di weekend e lascio la parola all'assessore Gualino. Con grande felicità ed orgoglio oggi vi voglio comunicare che altri 80.000 euro verranno investiti per i nostri loculari comunali. Per farmi meglio capire sono quelle strutture che si trovano entrando al cimitero sulla destra e quella grande struttura sulla sinistra. Da troppi anni erano in terribili condizioni, siamo intervenuti sulle coperture, siamo intervenuti nella messa in sicurezza e oggi interveniamo con l'intonaco e la tinteggiatura. Questo per che necessitano comunque di grande rispetto. Una cultura si misura dal rispetto che ha per i propri avi. E per questo importante intervento che si aspettava da tanti anni voglio fortemente ringraziare i nostri uffici e la ditta AFIB sempre disponibile e attenta ai nostri bisogni.